Europa sotto casa arriva nel capologo d'Abruzzo, nella cornice di Piazza Duomo in centro storico. Da questa mattina infatti il Salotto Buono dell'Aquila ha fatto da sfondo al Villaggio del Lavoro che la Regione Abruzzo ha allestito con l'obiettivo di riavvicinare i cittadini alle istituzioni ma soprattutto per favorire l'incrocio domanda offerta di lavoro. Questa, come ha ben detto, è una giornata dedicata all'orientamento, alla formazione e al lavoro. Quindi la Regione ha voluto, proprio con tutte le sue forze, tornare in piazza per incontrare i lavoratori e quanto cercano opportunità sia nel mercato del lavoro, quindi con le aziende presenti, ma anche nel mercato della formazione. Quindi tanti, per esempio, questa mattina sono le scuole, le ultime classi degli istituti superiori che sono venuti in piazza per cercare informazioni per tutta la fase post-diploma. Quindi le università, abbiamo gli enti di formazione del territorio accreditati alla Regione Abruzzo, abbiamo la rete Eures per le opportunità di mobilità in Europa, i centri per l'impiego e ovviamente le aziende e le APL, cioè le agenzie per il lavoro private, che sono qui con le loro offerte di lavoro. Il nostro obiettivo è quello di attrarre, come tale Salenia Space, i giovani nel nostro ambiente. Il nostro ambiente è un ambiente dinamico, è un ambiente nel quale è richiesta molta interazione. Il team working è uno degli elementi essenziali che ci aiuta a lavorare meglio. La tecnologia e la specificità dei nostri prodotti sono sicuramente uno degli elementi chiave che distinguono tale Salenia Space rispetto alle altre aziende sul territorio. Penso che tutti conoscano quello che tale Salenia Space fa, partendo dalla progettazione, alla disegnazione, alla realizzazione, alla produzione, all'integrazione dei nostri satelliti. e quindi il nostro lavoro è un lavoro che parte dalla ricezione di quello che è la richiesta che il nostro cliente, che può essere un cliente istituzionale o un cliente commerciale, quindi non solo le agenzie spaziali ma anche il mondo ormai è diventato un business, lo spazio è diventato un business, ci porta a commissionare dei progetti che poi noi dalla parte iniziale, dal momento in cui viene commissionato fino al lancio del satellite seguiamo per tutta l'intera vita del prodotto. Noi siamo qui con invito dalla regione Abruzzo per questo evento Europa Sotto Casa dove approda su tutti i luoghi di provincia, quindi l'Aquila, Termo, Pescara e Chieti. Noi siamo qui oggi per dare informazioni ai ragazzi che vorrebbero abbracciare questa vita.